Martedì 17 e mercoledì 18 gennaio dalle ore 9 alle ore 17, avendo la necessità di intervenire con lavori urgenti per la messa in sicurezza di un balcone con affaccio sulla via Red Italia, la stessa via sarà chiusa al transito nei prossimi giorni. Nelle stesse ore interessate dai lavori, l'accesso alla via verrà consentito esclusivamente ai residenti della stessa. Ne abbiamo parlato con l'assessore in merito Ivan Rando. La viabilità verrà seguita per tutti coloro i quali da Corso Vittorio Emanuele vorranno raggiungere Santa Lucia utilizzando via Berengario-Ghetani.